Le suore come insegnanti non ci sono più, però io tendo sempre a sottolineare il fatto che qui c'è la presenza di una comunità religiosa. Io credo molto nel valore della preghiera e dell'offerta della sofferenza. Qui abbiamo quattro suore e un sacerdote malato, che offrono ogni giorno la loro sofferenza e stanno in adorazione. Quindi se noi riusciamo a lavorare con entusiasmo, credo che molto si debba a loro.